Attenzione, Immobile, attaccato da tanti, esiste alla carica Milinkovic, poi mette il cross. Secondo palo, e ci pensa lui, e ci pensa il bomber, e ci pensa sempre lui, Ciro, Immobile, il cross lungo di Milinkovic, sul secondo palo, l'intornata di Ciro, Immobile, la palla in rete e la Lazio la pareggia, praticamente al 92esimo. La prima azione che la Lazio riesce a orchestrare, il Torino si fa perdere in contropiede, Milinkovic lavora questo pallone in mezzo a quattro uomini, vince un rimpallo, poi praticamente Lazari discarica il pallone, Milinkovic alza la testa e pesca con il Mirino Ciro, Immobile, che da lì non tradisce, due minuti al termine, Lazio che riesce a pareggiare una partita difficilissima.